Ritardi e inefficienze nell'utilizzo dei fondi europei destinati allo sviluppo economico ed occupazionale e il quadro allarmante che emerge dal rapporto pubblicato da Rosa D'Amato, portavoce del Movimento 5 Stelle, al Parlamento europeo. Il servizio. La regione molise continua a gestire in modo fallimentare i fondi europei e quando emerge dal rapporto elaborato e reso noto da Rosa D'Amato, portavoce del Movimento 5 Stelle, al Parlamento europeo. Al 31 dicembre 2017 risultano pagamenti per appena 6 milioni, su impegni pari invece a 43 milioni di euro, con un rapporto tra impegno di spesa e pagamento inferiore alla media italiana europea. Ciò significa che in Molise, dei progetti originali, la gran parte è rimasto sulla carta, bloccando di fatto quei soldi alla fonte per incapacità amministrativa e politica di sfruttarli. Secondo gli ultimi dati, a ben 4 anni dall'inizio della programmazione 2014-2020, sono stati spesi nemmeno il 9% dei fondi dell'intero programma FESR-FSE, che si propone di creare crescita e occupazione incentivando l'innovazione e la competitività delle piccole e medie imprese, di migliorare l'efficienza energetica nella regione e tutelare il patrimonio culturale e naturale. Oltretutto, continua la D'Amato, il Molise corre il rischio di dover restituire i fondi a Bruxelles, oppure di non farlo, di rincorrere un'accelerazione della spesa, indire bandi a provare progetti negli ultimi mesi della programmazione, senza utilità certa per il territorio. Va ricordato inoltre, e prosegue la nota, che Abruzzo, Molise e Sardegna sono state classificate come regioni in transizione, ovvero quelle che hanno un PIL tra il 70 e il 90% della media europea, ma che hanno ancora carenze infrastrutturali e difficoltà strutturali. Un altro fattore che, secondo la parlamentare Rosa D'Amato, avrebbe dovuto far scattare un campanello d'allarme e una maggiore efficienza nell'utilizzo dei fondi europei dedicati. Sarà necessario, dunque, non solo riprogrammare il POR 2014-2020, ma chiedere inserire il Molise nel PON Cultura e Sviluppo, per incentivare la realizzazione di infrastrutture e servizi culturali e orientati al turismo, ma anche l'inserimento nel PON Istruzione 2014-2020. E si parla in questo caso di 3 miliardi di euro per tutta l'Italia, soldi a cui il Molise avrebbe diritto per migliorare la sicurezza e l'accessibilità degli edifici scolastici, oltre a dotarli di attrezzature moderne. È imperativa, conclude la portavoce del Movimento 5 Stelle, la necessità di dimostrare il grande valore aggiunto dei progetti europei, finanziati con i fondi strutturali e di investimento, per non dare ulteriori motivi ai falchi dell'austerity, che vorrebbero distruggere la politica di coesione, ma anche e soprattutto per finanziare e attuare progetti realmente utili per i cittadini e funzionali alle vocazioni del territorio.